Altra storia di eccellenza, questa volta nel campo della salute, è quella del professor Francesco D'Andrea che nel campo della chirurgia plastica propone le tecnologie come elemento per migliorare la propria bellezza senza rischi. Vediamo. Una macchina che riesce attraverso una nuova tecnologia importata dalla Spagna con una radiofrequenza avanzata a produrre energia con e senza calore per molteplici scopi di bellezza. La tecnologia velocizza i risultati di interventi chirurgici favorendo un più rapido recupero agendo su gonfiore, ematomi, dolori e cicatrici ma anche con una indicazione specifica per gli inestetismi come cellulite, disegni dell'invecchiamento, tutto tramite stimolazione e bioossigenazione dei tessuti per una pelle più distesa e giovane. È una nuova macchina che arriva dalla Spagna che sfrutta una tecnologia nota che è la radiofrequenza ma evoluta in termini di caratteristiche tecniche che serve e nasce addirittura per ritrattare il dolore quindi è una terapia fisica che poi è diventata valutandone le proprietà e soprattutto l'azione su quello che è il tessuto dove lo migliora nell'ossigenazione e nella vascularizzazione è anche una macchina che può essere usata nel campo estetico con ottimi risultati. La bellezza di questa macchina è comunque l'accessibilità, è un risultato che si raggiunge veramente in poco tempo. Sì, la bellezza della macchina è che è un trattamento non invasivo, non doloroso, addirittura piacevole che può avere varie indicazioni. Può essere usata da sola per trattare dei singoli inestetismi come possono essere la cellulite, la pelle rilassata o, e questa è la grande novità, in abbinamento a quelli che sono gli interventi di chirurgia estetica più comuni dove l'uso della macchina diventa molto importante perché consente un recupero molto veloce, controllo del dolore nel post-operatorio e anche risultati migliori in termini di cicatrici.